Vittoria in casa Fanno densità, sono forti fisicamente Ci hanno creato delle difficoltà oggi Noi veniamo da una settimana un po' complicata Per via degli infortuni, malattie e quant'altro Quindi non abbiamo avuto modo di prepararla come volevamo E soprattutto non abbiamo avuto la possibilità di poterla cambiare con i cambi come volevamo Però i ragazzi si sono impegnati Alla fine è venuto fuori un 2-0 Quindi va bene così Comunque sei vero con i tuoi Perché a livello di squadra secondo me siete andati bene Siete molto solidi Dietro non avete veramente concesso niente Grazie anche al centrocampo che copre bene Davanti fanno il loro, aspettano la palla buona 1-0 alla fine del primo tempo E poi un super gol di Lombardi nel secondo tempo Sì, no, non si tratta di essere severi So che questa squadra qui può esprimere un calcio migliore Può esprimere un'intensità maggiore Però non sempre si può essere perfetti tutti i sabati Non sempre possiamo avere una gamba tale Che ci permette di poter fare un certo tipo di calcio Adesso stiamo attraversando questo periodo qui Dobbiamo venirne fuori al meglio Perché le giornate alla fine sono ancora tante Dobbiamo ancora sudarla Sudarla parecchio Poi ripeto al di là del risultato che farà oggi la round Siamo sicuri di rimanere in vetta al campionato Quindi questo è un fattore sicuramente positivo Speriamo di ritrovare presto brillantezza e continuità Per soffrire meno Comunque prima alla vigilia Parlavi un po' dei ragazzi che avrebbero sostituito i titolari Mi è piaciuto anche il Bacra che gli ha dato fiducia dall'inizio del secondo tempo Bellini che è entrato negli ultimi 15 minuti Casali che l'hai messo anche a centro campo Ha dato tutti degli ottimi segnali Sì 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 sotto questo punto di vista i ragazzi sono perfetti Perché comunque anche chi ha giocato meno rispetto a quelli che hanno giocato di più Sono coinvolti nel progetto Ci credono e meritano di avere dello spazio Poi a volte non ci se la fa Però l'obiettivo è quello di arrivare alla fine del campionato Cercando di dare lo spazio più o meno simile a tutti Più o meno Poi dopo dipende dalla partita Dipende dalle settimane Dagli infortuni e quant'altro Però l'obiettivo è quello lì Grazie a tutti